Nella battaglia contro il caro pedaggi verrà coinvolto il ministro alle infrastrutture e trasporti ai quali il tavolo dei sindaci di Abruzzo e Lazio scriverà subito per chiedere un confronto sulle tariffe sulla sicurezza delle autostrade che uniscono l'Abruzzo a Lazio. È quanto viene fuori dal confronto tra gli amministratori delle due regioni e rappresentanti degli autotrasportatori che per primi hanno rilanciato l'allarme degli aumenti convocati dal sindaco di Cazzoli, Velia Nazzarro. Quello che si vuole assolutamente evitare è il rincaro delle tariffe di A24 e A25 paventato da Mauro Fabris, vicepresidente di Strada dei Parchi. Un aumento del 26% che potrebbe scattare sulle tratte Roma-L'Aquila-Teramo e Roma-Pescara già dal primo dell'anno nuovo. I sindaci già da tre anni sono sul piede di guerra, hanno fatto incontri, manifestazioni e anche in questa occasione non intendono mollare la presa. Il tema vuole essere portato all'attenzione del nuovo ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, dopo che nel giro di poco gli interlocutori, cioè i ministri, sono cambiati spesso e dunque la patata bollente è rimbalzata tra le mani di Del Rio, Toninelli e la De Micheli. La missiva sarà inoltrata anche a Draghi e se non ci sarà dialogo i sindaci si dicono pronti a tornare a Roma. Il sindaco di Cazzoli ora contatterà via via i nuovi sindaci dopo le elezioni amministrative per vedersi di nuovo e avere una strategia e una visione comune. L'aumento paventato dei pedaggi è legato alla mancata approvazione del piano economico e finanziario che attende dal 2012. Finora le varie proteste, anche evidenti, hanno scongiurato gli aumenti, ma i sindaci chiedono una soluzione definitiva una volta per tutte. Dopo le battaglie intraprese le tariffe sono ferme a 31 dicembre 2017, con lo stop degli aumenti sino a dicembre 2021. Ovviamente il discorso riguarda autotrasportatori, ma anche pendolari, che ogni giorno ad esempio raggiungono la capitale per lavoro, aumenti che danneggerebbero, secondo i sindaci, irrimediabilmente l'intero sistema di viabilità e trasporti delle aree interne.